Allora Claudio, si può combattere la sedentarietà? Ci puoi dare qualche consiglio, qualche trucco per poter combattere questo problema? Allora, la più semplice, la più facile, la più veloce è fregare il sistema che adatta il corpo alla sedia. Perché il sistema che adatta il corpo alla sedia si basa sulla quantità di tempo che passiamo senza pause seduti. Quindi pause frequenti. Ogni 40 minuti fare una pausa attiva, semplicemente ti metti a fare due respiri, ti metti a covacciato, cammini. Quindi è una cosa che dubito che la gente venga licenziata, perché si ferma per 90 secondi ogni 40 minuti. Però cosa succede? Che blocchi il cronometro. Quindi non essendo una postura mantenuta molto a lungo, l'adattamento del corpo a quella cavolata è inferiore. Quindi delle pause frequenti sono molto utili, anche per la testa in realtà. Grazie. Grazie.